buongiorno buongiorno come stai spaghettoni io sono bene bene macarroni spaghettoni spaghettoni sei uno stronzo ma che passa io sono spaghettoni del 1923 salvando il mondo che sta facendo non fa niente ma che cosa io salvo il mondo ma che fai tu macarroni tutto il giorno in qui nel supermercato ma che cosa fai se la tua mamma sei qui mamma mia spaghettoni mamma mia il primo del macarroni ma che cosa me sta dicendo oggi è il mio giorno pronto 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 a me a me a me a me presto 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 bravo bravo ciao macarroni bambini ci vediamo ciao ma non sai che passa sono un po nervoso ma non lo sai questo oh acqua bella acqua bellissima oh ma un po troppo calenta me che ma me che ma oh benissimo oh parejo ah grazie eh 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 guidato eh questo è il mio sito per favore no 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 la tappa no può un po' respirare sono troppo felice ciao tutti sono spaghettoni ciao chi sei chi sei oh bravo oh quanta gente bellissimo ciao spaghettoni per tutti e ben ricorda se io sono spaghettoni e le spaghettoni salva tutto il mondo ciao